di Richard Bach parte settima. Accadde giusto una settimana dopo. Fletcher stava impartendo una lezione propedeutica a un gruppo di matricole. Era appena uscito da una picchiata da oltre 2000 metri e nella richiamata sfrecciava pochi palmi dalla spiaggia quando un giovane uccello ai primi voli planò direttamente sulla sua traiettoria e chiamava la madre. Il gabbiano Fletcher aveva un decimo di secondo per evitare il piccolo e così effettuò una fulmina virata sulla sinistra e andò a schiantarsi a 200 miglia all'ora contro un masso di granito. Quella roccia fu per lui la soglia attraverso cui si accede in un diverso mondo. Ci fu un cozzo accecante, un nero scoppio di terrore stupore e un istante dopo egli vagava alla deriva di uno strano cielo, immemore, a tratti ricordando qualche cosa di nuovo scivolando nell'obbrio, era triste, ora era pieno di paura, ora infinitamente sconsolato. La voce giunse a lui come quel primo giorno che aveva incontrato il gabbiano Jonathan Livingstone. Il fatto è, Fletcher, che bisogna superarli un po' alla volta i nostri limiti con un po' di pazienza, qui sta il trucco. Tu non eri ancora pronto per volare attraverso la roccia, non c'eravamo ancora arrivati a quel punto del programma. Jonathan! Noto anche come il figlio del grande gabbiano. Ma cosa fai tu qui? Quella rupe! Sono... io sono... sono morto, non è vero? Oh dai, Fletch, basta riflettere. Se adesso stai parlando con me, non puoi essere morto, dico bene. È successo soltanto che hai cambiato in maniera un po' brusca il livello di coscienza. Ecco tutto. E adesso a te la scelta. Puoi restare così e imparare nuove cose a questo livello, che peraltro è alquanto più elevato di quello da cui provieni. Oppure puoi tornare a prestare la tua opera presso lo stormo. E gli anziani ci speravano in una qualche disgrazia, anche se ora si mostrano sgomenti per il grosso favore che gli hai reso. Voglio tornare presso lo stormo, è chiaro. Avevo appena cominciato il corso con quel gruppo di matricole. D'accordo, Fletcher. Ricordi? Ti dicevo che il corpo non è altro che un grumo di pensieri. Fletcher scosse la testa e stiracchiò le ali e aprì gli occhi ai piedi della rupe. Intorno a lui si era radunato tutto lo stormo. Quando si mosse dalla turba si levò un gran clamore di stride e gracchiamenti. È resuscitato, era morto e adesso è vivo un'altra volta. L'ha toccato con la punta dell'ala, gli ha ridato la vita, il figlio del grande gabbiano. No, lui stesso lo nega, è un demonio, è il diavolo, è venuto a disgregare lo stormo. La turba era formata da tremila gabbiani, quattromila. Erano spaventati da quello a cui avevano assistito ed il grido è il diavolo, è il diavolo, passò come una procella in mezzo a loro. Vitre e gli occhi affilati rostri si avanzavano pronti a uccidere. Ti sentiresti più tranquillo, Fletcher, se tagliassimo la corda? chiese Jonathan. E non credo che farei molte obiezioni. E da un istante all'altro, eccoli, a mezzo miglio da lì e i rutilanti rostri della turba non beccarono altro che aria. Chissà perché, se arrovellava Jonathan, la cosa più difficile del mondo è convincere un uccello che egli è libero e che può dimostrarlo a se stesso, solo che ci metta un po' di buona volontà. La libertà basta solo esercitarla, ma perché? Perché deve essere tanto difficile? Fletcher batteva ancora gli occhi dopo quel rapido mutamento di scena. Ma come hai fatto? Come siamo arrivati da là a qui? Eri d'accordo, no? Che si tagliasse la corda. Sì, ma come hai fatto? Per tutte le cose, Fletcher è questione di esercizio. Quando fu la mattina seguente, lo stormo aveva già dimenticato la sua collera. Fletcher no. Ti ricordi che una volta mi dicesti tu, Jonathan, che bisognava voler bene allo stormo, perdonarli, tornare tra loro e aiutarli a capire, a imparare? Certo. Ma di un po', come fai ad amare una tale marmaglia di uccelli che ha tentato addirittura di ammazzarti? Oh, Fletch, non è mica per questo che li ami. È chiaro che non ami la cattiveria e l'odio. Questo no, ma bisogna esercitarsi a discernere il vero gabbiano, a vedere la bontà che c'è in ognuno e aiutarli a scoprirli da sé, in se stessi. È questo che io intendo per amore e ci provi anche gusto una volta afferrato lo spirito del gioco. E seguitò. Mi ricordo, per esempio, di un bellicoso uccello che di nome si chiamava Fletcher. Era giovane e l'avevano esiliato. Era un reietto e aveva giurato vendetta. Era pronto a combattere contro lo stormo all'ultimo sangue. E così si accingeva a fabbricarsi il suo piccolo inferno privato là alle scogliere remote. Ed eccolo qua oggi, invece. Intento ad edificare un paradiso e a guidare tutto quanto lo stormo verso questa meta. Fletcher si volse verso il suo istruttore e nei suoi occhi passò lo sgomento. Guidarli? Io? Che cosa intendi dire? Io? Guidarli? Sei tu qui l'istruttore, il maestro? Mica puoi andartene così? Non posso, eh? Ma di, non pensi che potrebbero esserci altri stormi, altri Fletcher, altrove, dove potrebbe esserci più bisogno di un maestro che non qui? Qui voi altri avete già iniziato il cammino verso la luce. Ma io, John, sono un semplice gabbiano, mentre tu? Sarei l'unico figlio del grande gabbiano, vuoi dire? Jonathan sospirò e guardò verso l'orizzonte. Tu non hai più bisogno di me. Devi solo seguitare a conoscere meglio te stesso, ogni giorno un pochino di più. Trovare il vero gabbiano Fletcher Lind. È lui il tuo maestro, è lui che tu devi capire, è in lui che tu devi esercitarti, a essere lui. Di lì a poco il corpo di Jonathan prese a tremolare nell'aria, come una lingua di fuoco e a farsi trasparente. Fa che non si spargano sciocche dicerie sul mio conto e fa anche che non mi trasformino in un dio. Intesi, Fletch? Non sono. Io sono solo un gabbiano e mi piace volare. Jonathan! Povero Fletch, non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda con il tuo intelletto e scopri quello che conosci già, allora imparerai come si vola. Il tremulo barlume si spense tutto. Il gabbiano Jonathan era svalito nell'aria, nell'impalpabile aria. Di lì a poco, fattosi forza, Fletcher Lind si levò in volo e incontrò un gruppo di nuovi adepti, ansiosi di ricevere la loro prima lezione. Innanzitutto, incominciò piuttosto breve, vi dovete rendere conto che un gabbiano è fatto a immagine del grande gabbiano. È un'infinita idea di libertà, senza limite alcuno, e il vostro corpo, da una punta dell'ala a quell'altra, altro non è che un grumo di pensiero. I giovani gabbiani lo guardavano, stupiti e un po' canzonatori. Pensavano, è così che tu ci insegni la gran volata o la gran volta? Fletcher sospirò e ricominciò da capo. Dunque, e li scrutò con occhio critico, allora cominceremo dal volo orizzontale. E mentre pronunciava quelle parole, si rese conto così, un tratto, che il suo amico non era più divino di quanto l'uno fosse lui stesso. Fletcher. Senza limiti, eh, Jonathan pensò. E va bene, giorno verrà che ti comparirò davanti, all'improvviso, io, sulla tua spiaggia per insegnarti una cosetta o due in materia di volo, amico mio. E quantunque cercasse di mostrarsi tutto serio e severo ai suoi allievi, il gabbiano Fletcher, a un tratto, per un attimo, li vide come veramente erano e sorrise. Non soltanto gli piacevano, li amava. Quello che vide era molto bello. Nessun limite, eh, Jonathan pensò e sorrideva. Era come l'inizio di una gara, aveva cominciato ad imparare. E qui si conclude l'avventura dei nostri gabbiani.